oh amico oh amico oh amico oh amico era la nostra torta oh amico oh amico è terribile oh accidenti puoi dirlo forte cosa farai ora doggy qualche idea su come aiutare i conigli è il distintivo dei pasticceri doggy vuoi fare una nuova torta ai conigli forte amico c'è giusto il tempo per un'altra cosa un doggy abbraccio doggy abbraccio